Ciao, in questo video parlo dell'acqua in bottiglia, prodotto che, secondo me, dovrebbe essere acquistato solo nei casi in cui non si avesse a disposizione un'acqua sicura a livello chimico e patologico, anche se personalmente preferisco non comprarla neanche quando sono in giro per il mondo e bevo l'acqua di un mio impianto portatile. Certamente l'acqua di bottiglia è sicura, almeno fino a quando non saltano fuori le magagne, ma quando succede, come si suol dire, le uova sono rotte e la frittata è fatta. E visto che comunque la responsabilità è sempre di chi apre la bottiglia, beh, se devo essere responsabile, preferisco esserlo dell'acqua purificata dai miei impianti. Ovvio, l'eventuale inquinamento di una bottiglia non è una cosa voluta, ma perché devo rischiare inutilmente? Pochi giorni fa, la Sant'Anna ha dovuto ritirare dal mercato un lotto di bottiglie d'acqua che puzzavano. Ovvio che non l'hanno fatta apposta e certamente le persone che l'hanno bevuta non sono morte, ma nessuno può avere la certezza che ciò che hanno bevuto non gli abbia fatto assolutamente nulla. L'azienda ha detto che probabilmente è stato uno shock termico, cosa molto probabile, perché visto come vengono trasportate e stoccate, la cosa non mi stupisce. Sulle bottiglie c'è scritto di tenerle al riparo da fonti di calore e luce, ma non dicono il perché. Questa è la mia teoria. Le bottiglie d'acqua sono rivestite di un prodotto chimico che le rende brillanti o più lucenti o più belle alla vista. Però l'acqua, grazie al suo potere solvente, con l'aiuto delle luce e o degli sbalzi di calore, potrebbe sciogliere questo elemento al suo interno e prendere un cattivo gusto. Sulla tossicità non entro in merito, ma come detto all'inizio, questa è solo una mia teoria. Qualche tempo fa ho letto una ricerca di una università italiana che ha paragonato le bottiglie di plastica con quelle di vetro per capire quanto si alterasse il liquido che contenevano e in quella ricerca parlavano appunto dell'acqua. Siamo abituati a pensare che il vetro sia meglio della plastica, ma la ricerca mette in evidenza che se il vetro non è trasparente e vergine, tutta questa sicurezza non la dà, perché le bottiglie di vetro riciclate vengono normalmente colorate e i coloranti sono composti con una base di piombo e l'acqua li potrebbe sciogliere al suo interno. A mio parere l'acqua nelle bottiglie di vetro è meglio, ma un rischio ci può sempre essere. Ciò che non mi piace delle bottiglie d'acqua è l'impatto enorme che il contenitore ha sull'ambiente. Nel caso avesse svolto il suo lavoro regreggiamente, quindi senza inquinare l'acqua che conteneva, una volta terminato il suo lavoro diventa un rifiuto e riciclarlo, quando un riciclo viene fatto, implica comunque un costo per tutti gli abitanti della terra. Poi la follia umana. Di bere una marca piuttosto che un'altra perché la pubblicità te la rende più accattivante non la comprendo proprio. Non è che se bevi l'acqua della salute diventi Miss Italia o un calciatore famoso, resti quello che sei, ovvero te stesso. È sempre meglio essere se stessi che assomigliare a qualcun altro. La coppia, per bubella che sia, non sarà mai come l'originale. Inoltre, perché se abiti in Lombardia devi berti l'acqua calabrese? O se sei siciliano devi berti l'acqua del Trentino? Non si sta parlando di specialità culinarie, ma di acqua, che per essere buona deve essere in odore, in colore e in sapore. Quindi scegliere un tipo d'acqua perché c'ha un gusto o un sapore migliore è da ricovero. L'inquinamento causato dai camion per trasportare questi contenitori è da prendere in considerazione seriamente. Inoltre, proprio questo trasporto può far diventare pericolosi questi contenitori, proprio per gli shock termici o la luce. Ma se 2000 anni fa i nostri avi hanno costruito gli acquedotti, perché non usarli, migliorarli e migliorare il prodotto che scorre dal suo interno? E se le municipalità non ti danno l'acqua buona, migliorala tu. Grazie a quelli prima di noi, in Italia abbiamo gli acquedotti e quindi quasi tutte le case hanno l'accesso all'acqua municipalizzata. Se fossero in zone rurali, quasi certamente potrebbero avere un pozzo o una sorgente o un fiume o un lago. E se così non fosse, si avrà quasi certamente una raccolta di acqua piovana, perché in Italia piove ovunque, non abbiamo il deserto. Inoltre abbiamo così tante giornate di sole che chiunque non voglia usare l'acqua in bottiglia può prendere l'acqua che ha e purificarla per evaporazione, avendo cura di aggiungere ovviamente dei sali una volta condensata. Quindi non esistono scuse, ma solo pigrizia e poca voglia di vivere in un mondo meno inquinato. Ho estremizzato volutamente, perché le soluzioni ci sono e sono alla portata di tutti, basta solo volerlo. Le mie orecchie hanno sentito commenti del tipo 1000 euro per un impianto di operazione sono tantissimi soldi, poi si compra un telefono da 999 euro, perché fa figo o è alla moda. Ma quando l'intelligenza e la voglia di vivere in un ambiente più pulito e a misura d'uomo sarà alla moda? Bene, anche per questo video è tutto. Se hai domande o se pensi che un purificatore sia meglio di un cellulare e quindi hai deciso di acquistare un purificatore d'acqua, scrivimi o telefonimi. Con un qualsivoglia telefono ti ricordo che quello inventato da Meucci fa la stessa identica cosa di un telefono di ultima generazione, trasmette la voce, che è lo scopo per cui è stato inventato. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!